Sono Carlo Bonza, sono uno dei galleristi soci della Galleria Ufficine dell'Immagine in Milano. Presentiamo le opere di Shady Gadirian, avremo una mostra personale in Galleria in Via Vannucci, zona Porta Romana, Milano a partire dal 23 aprile, presenteremo varie serie di vari periodi storici di produzione dell'artista stessa, che è una giovane fotografa iraniana che vive e lavora a Tevan, in particolare avremo la serie Like Every Day, che risale al 2000 come anno di produzione, avremo ben quattro opere presenti in mostra, dopodiché avremo anche la serie Nihil e avremo anche la serie Kajar. Ultimo, ma non da ultimo, la Miss Butterfly, che è l'ultimissima serie da lei prodotta nel 2011. Da 2011 fino ad oggi l'artista ha fatto solo ed esclusivamente mostre pubbliche, quindi non ha prodotto nuove opere, nuove serie e quindi questa è la produzione riassuntiva dell'artista degli ultimi anni ed è estremamente rappresentativa, sta riscuotendo un interesse veramente enorme, sia durante la Fiera di Bologna che qua al MIA, per cui ci aspettiamo una massiccia partecipazione anche alla mostra personale in Galleria.